Eh no, perché lui è uno di quelli che spaccia pulmini di Troia, quindi dico io, ma chi sono io per non avere quest'offerta? Cioè, chi sono io? Sono o non sono la persona che merita quest'offerta dal Berlusca in persona? Aspetta, mi sta chiamando qualcuno? Oh, è Berlusca! Pronto, sì, Berlusca. Ah, arriva... Ah, di lusso, di lusso, capodanno, capodanno con le Troie. Ci piace, ci piace, ci piace, ci piace, Berlusca. Eh, vabbè, non posso dirlo qua, è informazione privata, se vuole muta il microfono. Eh sì, sono in live, sono su Twitch, se mi vuole donare pure qualche soldino. Ah, non ha Twitch? Vabbè, poi ti mando l'Iban, mi mandi lì un po' di soldini, visto che lei fa soldi appalate, se vuole metta buon nome a suo figlio, così mi fa entrare in Mediaset, mi fa condurre qualcosina. Ah no? Vabbè... Io non ho nulla da darti in cambio, cosa ti potrei dare? Ti faccio partecipare con me all'Orgetta, con le tue Troie? Ah no, non vale, perché giustamente l'hai pagati tu. No, eh, c'hai ragione, Berlusca, c'hai ragione, c'hai ragione. E come famo? Ti posso pagare in natura al massimo, l'unica cosa che ho è non c'ho una lira. Cioè, come contraccambiamo tutto ciò? Io faccio un favore a te, tu mi fai un favore a me. Una cosa vale l'altra, ti pago in natura. Va bene, però non facciamo cose un po' troppo, cioè... Facciamo cose basic, tanto lei... Ormai c'è una certa età, cioè non penso gli si rizza più, visto che va donando pulmini, pulmini di donnine. Ecco, diciamo in maniera family friendly che qua non vorrei che mi bandino su Twitch. Ok. Perfetto, perfetto, è andata, è andata. Oddio, mi stava cadendo il cello. No, no, è andata, è andata, signor Berlusca, è andata. Sì, 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 sì. Quindi per Capodanno facciamo una bella serata, eh, insieme. Ah no, lei non partecipa, giustamente, mi manda soltanto il pulmino. Va bene, poi in privato ti do tutte le info dove mandare questo pulmino, eh. Mi raccomando, eh, però voglio donne come si deve, giovani. Non mi mandi le nonnine, eh. Non mi mandi quelle della sua età, giustamente. Ah, è bello, è l'entenditore. Bravo, bravo, bravo. Lei mi piace, lei mi piace. Eh, giustamente le parlo con lei perché lei è un grande. Eh, eh, bravo, bravo, bravo. Lei sì che sa tutto, lei sì che sa tutto. C'è sta, c'è sta, c'è sta. Grande Berlusca, grande. Poi se mi vuole mandare un po' di soldini. Sì, sì, ti mando tutto in privato, non si preoccupi. Non si preoccupi, il pulmino lo vogliamo. Lo vogliamo questo pulmino. Cioè lo vogliamo, oddio. Sì, stavo parlando in generale perché di solito con la chat parlo in generale, li metto anche loro in mezzo. Volevo dire, lo voglio, lo voglio. Non ci sarà nessun altro che usufrirà di questo, di questo suo regalo, ecco. È un regalo che ci facciamo tra di noi. Bravo, bravo. Le è piaciuto il TikTok, i TikTok che gli ho fatto, parodia. Eh, certo che le è piaciuto, eh. Eh, ti ho fatto crescere un po' su TikTok, ti ho dato un po' di visibilità. È bravo, è bravo. Fai anche tu la stessa cosa con me, eh. Ne avrei un po' di bisogno, eh. Vabbè, sai tu come fare? Sai tu come fare? Sempre se la usi ancora TikTok, non l'hai usato soltanto nella campagna politica. Bravo, bravo. Lei sì che è esperto, lei sì che è esperto. Grande. Meno male che Silvio c'è, ricordiamolo, ricordiamolo. Vai, ci vediamo a capo... Ah, no, è vero, vero, vero. Vabbè, ci si sente allora? Le mando tutte le info per mandarmi le donnine, eh. Mi raccomando. Mi raccomando, grande. Sempre al top. E no, scusate, era Berlusca. Sì, come ha fatto parlare con la cuffia, non lo so nemmeno io. Vabbè, ci sentiva lo stesso.